Con i sorrisi professionali Stampati sulla faccia I capelli pettinati E lo sguardo che ti agghiaccia Arrivano decisi Al soccorso del paese I manager d'assalto Delle medie grandi imprese La fase di intervento La pianificazione Progetti a medio termine Di riconversione Parole misteriose Ti basti di sapere Che ti manderanno a casa Con un calcio nel sedere Ma 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 manager Manager Salvaci tu Vendi le nostre anime Se non servono più Manager Manager Mostracci la via Per perdere il lavoro Senza perdere l'allegria Ma manager Manager Fallo pagare a noi Il tasso di inflazione Ma rimortaci tuoi Diplomati in America Allenati a Milano La visione globale E il cellulare in mano Fanno mille strategie Ma una sola soluzione Strepitosa novità La cassa integrazione Manager Manager Salvaci tu Vendi le nostre anime Se non servono più Manager Manager Hai ragione tu Non sei papo Natale E nemmeno il buon Gesù Ma 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 Manager Manager Mostracci la via Per perdere il lavoro Senza perdere l'allegria Ma 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 Manager Manager Fallo pagare a noi Il tasso di inflazione Ma rimortaci tuoi La legge 223 del 1991 Legittime licenziamenti attraverso la mobilità e la cassa integrazione a zero ore Si è calcolato che alla fine del 1994 I disoccupati saranno più di 3 milioni e 600 mila Il tasso di disoccupazione avrebbe così superato il precedente massimo raggiunto nell'88 Nuove figure sociali sono state toccate dalla disoccupazione Tra gli iscritti alle liste di mobilità gli individui oltre 40 anni di età erano 59,1% a ottobre 93 Questa forte incidenza di meno giovani discende dalle scelte delle imprese Trattandosi di lavoratori non facilmente riqualificabili Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti